Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono code in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna. In A11 rallentamenti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A12 è chiuso al traffico per lavori il bivio A12 di Ramazione Livorno fino al 15 gennaio provenendo da Rosignano in direzione Livorno. Spostandoci sulla FIPILI, code a tratti tra Firenze Scandicci e la Strassigna in entrambe le direzioni. Code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Per la viabilità cittadina ordinanza antismog prorogata fino al 16 gennaio nei comuni di Firenze Calenzano Sesto Fiorentino Campi Bisenzio Signa, la Strassigna Scandicci e Bagnaripoli. Informazioni sui nostri canali social. Muoversi Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Muoversi Toscana